Dicevo nel video precedente che il Signore mi ha benedetto in molti aspetti della mia vita, però nel contempo mi ha messo in difficoltà nella vita amorosa e lavorativa. Io ho scritto due musiche, una, siccome mi ha messo in difficoltà nella vita amorosa e cattiva, mi ha portato molto a ammigliazione, ho scritto la musica per le ammigliazioni. Vi giù c'è la vita che non hai voluto dire. La musica per le ammigliazioni La musica per le ammigliazioni La musica per le ammigliazioni La musica per le ammigliazioni